In campagna elettorale non da qualche settimana, in campagna elettorale da anni perché non ho mai smesso di fare campagna elettorale. Per cui da questo punto di vista siamo operativi, siamo qui in un momento in cui Forza Italia presenta i suoi candidati. Una lista veramente ottima, composta da persone per bene, persone che amano la politica, che conoscono il territorio, che hanno esperienza, che hanno capacità amministrativa, per cui penso che la lista di Forza Italia veramente farà un grande risultato alle ultime europee nel collegio della Sicilia e della Sardegna. Cosa manca alla Sicilia per essere più forti in Europa? Manca rappresentanza, manca rappresentanza e soggetti che amano questo territorio e vanno a fare all'interno del Parlamento europeo le battaglie per portare risorse, per discutere i temi importanti che producono ricchezza e portano vantaggio alla nostra terra.